Un guerriero è morto in battaglia. Un lungo corteo lo accompagna dal villaggio alla necropoli. Il guerriero viene adagiato su una piattaforma di legno, cosparso da grassi e unguenti e avvolto da un telo di lino. Il sacerdote depone la spada del guerriero sul suo corpo. La catasta di legno è stata appositamente preparata per il rogo funebre. Per molte ore il corpo, assieme alla spada, brucia sul rogo. Dai resti del rogo funebre, il sacerdote sceglie e raccoglie alcuni frammenti di ossa. E li colloca in un'urna, avvolti in un telo di lino. La spada, collocata su un altare, viene scaldata, piegata e spezzata per decretare la fine della sua funzione. I frammenti vengono deposti sul terreno. È il momento di riunirsi attorno al dolio, che contiene il vino e di consumare insieme la bevanda con eleganti tazze di ceramica. È l'ultimo saluto al guerriero. Si fa ritorno al villaggio. La ricostruzione dei rituali funerari rappresenta solo una parte delle ricerche condotte nella necropoli della Terramara di Casinalbo, esposte nella mostra Le urne dei forti. Filmati, apparati multimediali, illustrazioni e reperti raccontano storie inedite di vita e morte di una comunità dell'età del bronzo. Filmati, partiti, partiti e partiti